Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla terza fase della puntata numero 3 gruppo 1 del club della scommessa. Dovevano pronosticare con un commento 5 partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia Serie A e Serie B come da regolamento con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 1 al lunedì 4 febbraio. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le ore 14 di oggi oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla terza fase di questo gioco del club della scommessa numero 3. Adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it Il primo partecipante Cosimo Di Viccaro ha pronosticato Reims-Marsiglia x2 a 1,48, Levercuse-Bagliarmonaco 2 a 1,50, Pescara-Brescia gol o over a 1,55, Schalke-Mongelabasch gol o over a 1,49 e Lyon-PSG gol a 1,50. Poi abbiamo Angelo Di Corato che ha pronosticato Bordeaux-Guy-Gamp 1 a 1,85, Hannover-Lipsia 2 a 1,55, Tottenham-Newcastle 1 a over 1,5 a 1,65, West Ham-Liverpool 2 a over 1,5 a 1,50 e Leicester-Manchester-United 2 a quota 2. Poi andiamo avanti. Abbiamo Vito Antonio Rizzi che ha pronosticato Cagliari-Atalanta 2 a 1,75, Real Betis-Atletico Madrid x2 over 1,5 a 1,78, Lecce-Ascoli multigol da 2 a 4 a quota 1,50, Inter-Bologna 1 e over 1,5 a 1,45, Froselone-Lazio 2 a quota 1,45, Poi abbiamo Garriba-Raffaella che ha pronosticato Juventus-Parma over 2,5 a 1,55, Villareale-Spagnol gol a 1,75, Palermo-Foggia 1 a 1,77, Huesca-Valadolid x2 a 1,65 e Levante-Ghetafe x2 a 1,53. Le partite pronosticate sono 20 e nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti il premio sarà un notebook 4 giga di RAM 500 di hard disk. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco e ne invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!